Consueto appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale, con la Fondazione CERM, il centro in Audi, appunto la nostra emittente, c'è un folto gruppo di commentatori stasera e ospiti davvero graditi, c'è con me come sempre Fabio Pammolli, professore economista del comitato di investimenti di InvestEU e anche ovviamente presidente della Fondazione CERM. Buonasera Fabio. Buonasera, buonasera. Grazie per essere con noi a Veronica De Romanis, economista, docente della Luise Guido Carli, bentornata. Buonasera. Grazie per essere con noi a Oscar Giannino, giornalista economico, che torna anche questa volta qui al bandolo. Grazie a voi, un saluto a chi ci ascolta. E graditissimo ritorno anche di Mario Seminerio, investitore e blogger, noto come fastidio. Buongiorno, anche buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Parliamo del governo insediato, sì, di Giorgia Meloni, a partire ovviamente dalla figura di Giorgia Meloni, che già prima dell'insediamento ha avuto i primi grattacapi, soprattutto più che con le opposizioni, ma con i suoi alleati, con Silvio Berlusconi, che è diventato, credo a parere di molti, piuttosto ingestibile, con il cosiddetto Toto Ministri che è impazzato per un po', poi ovviamente le dinamiche le conoscete e anche il quadro si è definito. C'è stato il suo discorso, ovviamente alla Camera, in cui sono stati messi un po' di puntini sulle i, anche su questioni su cui c'era in qualche modo un'attesa, come le simpatie o meno per il fascismo, che lei ha rimandato al mittente, però anche con una serie di temi, anche economici e soprattutto economici e di politica estera, che sono molto importanti, lei ha ribadito la piena appoggio all'Ucraina, il pieno appoggio ovviamente all'Alleanza Atlantica, ha rilanciato temi come la tregua fiscale, la riforma delle pensioni, su cui insomma era già tornata in precedenza, e ancora il tema del reddito di cittadinanza che vorrebbe abolire o comunque riformare in modo molto profondo, ma poi insomma andremo avanti. Allora iniziamo da Veronica De Romanis, con un primo commento rispetto appunto ai temi che abbiamo citato, quali sono quelli più interessanti barra preoccupanti rispetto a una prima lista che ho cercato di darvi? Intanto io definirei qual è il contesto in cui opera il governo Meloni, proprio oggi è uscito il dato del terzo trimestre del PIL, più 0,5, ci si aspettava un segno meno, e quindi insomma qualcosa sta andando bene, e questo vuol dire un acquisito, cioè quello che avremo a fine anno nel caso in cui il quarto trimestre fosse zero, dell'ordine del 3,9%, quindi è assai probabile che potremmo chiudere l'anno con una crescita superiore all'attese, un poco sotto il 4, il che cosa vuol dire? Margini di manovra più ampi, vuol dire che nella ricerca di risorse a debito c'è qualcosa in più da utilizzare, da sfruttare, quindi diciamo una piccola buona notizia, l'Italia è insieme alla Svezia e i paesi che stanno andando meglio, almeno per ora i dati che abbiamo a disposizione per quanto riguarda il terzo trimestre. Dopodiché il contesto è molto più complicato di quello di cui ha beneficiato il governo Draghi, ovvero la BCE sta normalizzandosi, niente più acquisti, tassi che aumentano e dal punto di vista delle politiche fiscali anche la Bruxelles è molto più restrittiva, ovvero bene sostenere le famiglie e le imprese ma in maniera estremamente selettiva. Quindi io penso che quello che tu dicevi Valeria ci sarà poco nella legge di bilancio, sarà piuttosto dell'intervento, o perlomeno mi auguro di sostegno delle bollette. Sul tema energia certo, anche perché questo è l'immediato banco di prova, forse anche uno dei più difficili per la vita. Esatto, invece le misure più identitarie, le bandierine come la flat tax, quello dipenderà molto da dove troveranno le risorse. Io mi auguro che ci sia un ripensamento, che il ministro Giorgetti ci ripensi, anche perché come l'abbiamo detto mille volte e concludo, la flat tax della Lega crea una grande iniquità tra chi ha una partita IVA e paga su 60.000 euro 15%, invece chi non ce l'ha, e invece quella di Giorgia Meloni è ancora peggio, perché a quel punto crea un'iniquità tra percettori della stessa cifra, ma che uno ha un incremento e quindi su quell'incremento paga di meno. Quindi io mi auguro che ci sia un ripensamento, insomma vedremo. Quello che però secondo me è interessante sottolineare in questo momento, che gli spazi di manovra a disposizione sono molto limitati. Ecco, allora arriviamo agli spazi di manovra, visto che li introduce Veronica Deramanis e Oscar Giannino, che cosa ne pensi? Io penso che gli spazi di manovra siano ristretti innanzitutto perché, come si è visto nelle due settimane precedenti la formazione del governo e come resta evidente nelle dichiarazioni di due partner su tre, e il terzo è il presidente del Consiglio, c'è anche il quarto, va bene, l'Unione Popolare, ma insomma i due che le hanno prese alle elezioni, cioè Berlusconi e Salvini, perché poi questo è, le hanno prese sonoramente, e sono i due che con la loro emozione di fiducia, separata da quella del governo, hanno fatto cadere Draghi, più dei 5 Stelle, però detto questo, come si è visto, il governo è arrivato alla formazione e alla scadenza, venerdì è annunciato il Consiglio dei Ministri dopo il primo in cui è stato annunciato la presentazione della Nadef per la parte programmatica e le misure su energia, è un primo pacchetto le misure su energia, però come è evidente sono arrivati dopo un mese dalla loro, tra virgolette, vittoria nel 25 settembre, senza avere avuto il tempo, il modo, la voglia e soprattutto la convergenza per chiarirsi le idee sui numeretti, sui numeri, cioè qual è il deficit a cui vogliamo arrivare come massimo per non incorrere nell'ira dei mercati dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, quali sono le priorità che in questo numeretto una volta definito più o meno, sono le vere priorità e le altre da rinviare, non ci sono arrivati e quindi il vero problema è dentro il governo, punto numero uno, come si vede, è chiaro che fanno più rumore le intemperanze sulle prime pagine dei giornali per quei posti che li leggono, di Berlusconi sull'Ucraina e le sparate su Salvini le competenze che non gli toccano, però il vero problema è che questi tre sono arrivati alla vittoria avendo tra di loro elencato misure che hanno effetti di finanza pubblica nonché distorsioni terrificanti sul potenziale, la distribuzione dei redditi e così via, che sono tali da non stare con sicurezza nella punta massima di deficit aggiuntivo, perché di questo si tratta, da realizzare rispetto al cronoprogramma che era contemplato nella legislazione di bilancio pluriannale del governo Draghi uscente. Ecco, perché io vedo che tutti i giornali hanno scritto ma fino al 4,5% dei deficit sul PIN non c'è problema, non so su cosa si basi questa cosa, però può essere abbastanza verosimile, ha ragione Veronica De Romanis a dire che questa crescita maggiore degli altri paesi europei in qualche modo garantisce anche entrate aggiuntive ancora da cui pescare, ma non certo la messe di cui ha beneficiato in maniera enorme i 18 mesi di Draghi, quello è stato ciò attraverso cui abbiamo mobilitato 60 miliardi quasi per l'energia, continuando a procedere nella diminuzione del deficit e del debito. Ecco, quella roba lì non c'è più. Allora, se uno elenca tutte le misure fiscali e previdenziali su cui hanno costruito le loro bandierine, non ci siamo proprio. Quindi la mia grande curiosità è capire questa scelta delle priorità, chi la fa? Certo, certo. Secondo i media e secondo quello che dice il Presidente del Consiglio, la fa il Presidente del Consiglio. Allora, io vi invito a riflettere, tutte le uscite di Salvini e Berlusconi sono tutte fondate su un presupposto, negare al Presidente del Consiglio la piena titolarità costituzionale dell'indirizzo politico del governo, perché asseriscono che loro, senza di loro non c'è la maggioranza. Quindi devi fare... Detto questo, a me viene da fare una battuta. E cioè che se per caso gli viene la tentazione di farla cadere, quella arriva alle elezioni, se ne frega, e prende il doppio di prima. Come sempre in Italia, sono un vecchio osservatore. Però posso dire, Oscar, una cosa... Non è farla ballare in Senato, capisci? Perché in Senato, la Camera conterà qualche conta, la vera faccenda è il Senato. E in Senato, come si è visto fin dall'elezione del Presidente, lasciamo perdere adesso con tutti gli ministri, i senatori, i sottosegretari, in Senato il rischio di ballare, è quasi certo. Allora, si inizia segnalando il deficit di controllo dell'agenda politica del Presidente del Consiglio, facendolo ballare. Su alcune delle misure manifesto, Salvini, Forza Italia, forse sì, certo non credo che ci daranno... Spero le pensioni mie a 1000 euro garantiti per tutti, perché quello sarebbe un disastro nel bilancio. Però loro devono decidere, presto, molto presto, cosa fare per esempio sulle pensioni. E poi i tempi della legge di bilancio sono gli strettissimi. Sulle pensioni, la sola rivalutazione piena sul deficit degli assegni previdenziali costa un botto risolto in più, tanto per essere chiari del previsto. Oscar, ti posso fare una domanda? Poi sentiamo anche seminario e fammolli e poi ci facciamo un altro giro, perché credo che sia un tema importante. Giusto tutto quello che tu elenchi, eppure io ho l'impressione, ne parlavo diciamo con appassionate amiche e amici in privato, che questa situazione sia per alcuni versi inedita rispetto a tanti leader che, carismatici o meno, insomma, abbiamo avuto prima, diciamo, del lungo elenco di governi, virgolette, tecnici. Innanzitutto erano un bel po' di anni che non succedeva più che le persone chiamassero un leader, una leader per nome. Succedeva ai tempi di Berlusconi. Ci sono stati leader che hanno avuto un forte carisma e che sono riusciti per poco tempo a tenere maggioranze o a governare in modo più o meno unitario e che però poi sono caduti su questioni, insomma, per esempio il referendum correnzi, rilevanti ma che non erano così solidi forse come è solida in questo momento la, diciamo, il partito di Giorgia Meloni che sostanzialmente si fonda sul suo, proprio sul suo carisma in questo momento. E quindi da una parte il ricatto che i suoi eleati potrebbero mettere in campo funziona fino a un certo punto perché essendo una donna molto determinata però funziona perché insiste sulle categorie fondamentali del voto che si è travasato a destra. I voti sono sempre quelli però quelli che hanno incorporato questa volta sono i delusi della Lega dei Salvini che aveva introiettato i delusi di Berlusconi. Eh ma la prossima ne prende ancora di più. Faccio un esempio di quello che io mi aspetterei dall'opposizione che per un momento non vedo. Siccome Giorgia Meloni ha detto la flat tax in quanto tale no, però da subito facciamo l'aliquota piatta per quelli che aumentano il reddito sulla media dei tre anni in maniera tale che se lo aumentano in maniera tale da far scattare l'aliquota progressiva superiore non sarà così e gli diamo un'aliquota progressiva. In un paese che va comunque malgrado il risultato del 2022 a un forte rallentamento il problema è questo a parte l'IRP è stata già scassata e bisognerebbe fare un ripensamento generale non c'è più la legge delega ci vuole un ripensamento generale organico ma non no il problema è che quando c'è un rallentamento forte il problema è forse un'altra domanda ma rispetto a chi perde a doppia percentuale il reddito sulla media degli ultimi tre anni non è il caso di aprire una riflessione su quelli per vedere se restano comunque sul reddito che perdono comunque a doppia percentuale che intacca la loro qualità di vita e la loro possibilità di sostenere la famiglia ma restano se c'è un unico percettore può essere a doppia cifra ma resti con una legge progressiva troppo elevata forse bisognerebbe ragionare così e non con questa retorica del dire premiamo chi fa meglio perché premiamo chi fa meglio è un po' difficile non convincermi del contrario ma la questione è che tutto questo va calato è l'unico intervento fiscale rilevante che fai e lo fai a favore di chi guadagna di più e non pensi a la cosa terrificante che è il bilancio della neopovertà in Italia è per dire ecco è uno degli elementi su cui è caduta poi l'Istrasse in Gran Bretagna Mario Seminerio appunto arriviamo a te e appunto che cosa ne pensi della leadership e della solidità della leadership visti gli alleati di Giorgia Meloni e degli interventi che si accinge a voler fare e ovviamente abbiamo sentito il commento di De Romanis e di Oscar Giannino ma io diciamo come dico sempre in Italia non si formano coalizioni ma si formano accozzaglie quella di destra è una accozzaglia che abbiamo già avuto modo di sperimentare ampiamente in ambiti locali ricordo l'autentica catastrofe per il sindaco di Milano ricorderete che Beppe Sala passeggiò sul povero pediatra di cui mi sfruttavo Bernardo Luca Bernardo dopo praticamente un teatrino senza fine che venne addirittura giustificato a posteriori della catastrofe dicendo siamo partiti tardi con la scelta del candidato cioè una motivazione sinceramente ridicola la più trasparente delle foglie di fico per indicare che questi sono in disaccordo su tutto io amo dire con uno dei miei giochi di parole che marciano divisi per marcire uniti nel senso che nelle fasi di campagna elettorale diciamo raccolgono abitualmente il consenso diciamo che spetta loro in un paese come l'Italia e dall'altro lato c'è una situazione assolutamente speculare poi quando si trovano in coalizione praticamente finiscono male ora per sintetizzare abbiamo visto l'avvio è stato abbastanza caratteristico nel senso che Salvini e diciamo Salvini è in France tra dichiarazioni sui social con dei video di un paio di minuti prima della dichiarazione di voto della dichiarazione della Meloni sulla fiducia Salvini si presenta e dice programma comune pagina x y z queste sono le cose da fare poi arriva la proposta di legge a prima firma bagnai sui 10.000 euro del contante poi arriva il ponte sullo stretto per farla breve Salvini sta giocandosi la sua sopravvivenza politica e questo non bisogna essere un politologo per arrivare a questa conclusione per cui è chiaro che quello che cercherà di fare Salvini sarà tenersi in evidenza estremizzare determinati messaggi strizzare tutti gli occhi che è possibile strizzare e cercare di non farsi assimilare da fratelli d'Italia per Berlusconi il discorso è una questione di sopravvivenza analoga ma per certi aspetti differente allora che cosa potrebbe evitare una riedizione del papete beh ricordiamo che ai tempi del papete Salvini era fortissimo soprattutto vedere il papete chiuso no sto scherzando poi sai il mare d'inverno sicuramente ha il suo fascino però adesso siamo in un ruolo invertito nel senso che Salvini lotta per la sopravvivenza mi pare che i sondaggi post elezioni che di cui noi in Italia abbiamo sempre questo culto no quasi maniacale mostrano che fratelli d'Italia sta ancora lievitando per motivi a me ignoti e la Lega mantiene la sua debolezza il suo trend secolare come direbbero gli economisti alla decrescita e quindi che fare in questo caso beh noi sappiamo che quando si tratta di andare a votare anticipatamente ci sono delle resistenze formidabili che sono agevolate dal fatto che siamo una repubblica parlamentare quindi è vero che Meloni può un giorno sì e l'altro pure dire allora torniamo subito a votare vi faccio estinguere però poi magari la realtà sarebbe un filo differente ma non voglio portare portarmi troppo avanti o mettere troppa carne al fuoco saranno vicende abbastanza stucchevoli nelle quali Meloni dovrà dimostrare tutta la sua risolutezza la sua determinazione e per quanto riguarda invece i provvedimenti nella richiesta di fiducia ha detto la situazione è particolarmente complicata grave seria saremo costretti a rinviare alcune delle nostre diciamo dei nostri interventi qualificanti ma mi chiedo quali perché il discorso di fare partire la estensione della flat tax sugli autonomi in area 80.000 100.000 mi sembra che alla fine sarà mandato avanti con priorità elevata e io spero che questa cosa arrivi altrettanto rapidamente davanti alla consulta perché considero queste misure uno sconcio in termini di equità orizzontale e non solo per quanto riguarda la flat tax incrementale è una cosa sinceramente ridicola che nasce con il anche qui una trasparente foglia di fico per fare emergere del sommerso quando sappiamo perfettamente che non andrà così crea delle iniquità che sono assolutamente apocalittiche poi per quanto riguarda la riduzione del costo del lavoro io ho sentito soprattutto da parte di Meloni la canzoncina più assumi e meno tasse paghi che per me è un incrocio tra il grottesco e il raccapricciante perché cosa vuol dire esattamente questo cioè che noi andiamo a spegnere eventuali macchine eventuali automazioni eccetera li facciamo sostituire da esseri umani no andiamo a ridurre la imposizione fiscale su aziende che nella media del triennio hanno aumentato l'organico benissimo ma allora questo vuol dire che quell'organico sarebbe aumentato comunque per cui di fatto tu prendi il denaro e lo butti nello sciacquone perché premi una cosa che si è realizzata premi il fatto compiuto e puoi sentirmi dire però dobbiamo anche tutelare incentivare l'automazione l'innovazione vogliamo burro cannoni e cannoli come al solito per cui mi sembra un cumulo di sciocchezze affastellate vedremo dove sarà il reale diciamo così punto di caduta e punto di equilibrio all'interno di una coalizione così come dire abbastanza singolare ma non dimentichiamo che se è vero che il dato di PIL del terzo trimestre ci conforta ma vedremo poi il dato definitivo perché tutta caso potrebbe essere un accumulo involontario di scorte quel più 0,5 e quindi vorrebbe dire che l'industria si sta fermando ricordiamo che Istat nella prima stima dice il valore aggiunto dell'industria è in contrazione vanno bene i servizi immagino il turismo nella stagione estiva questo di per sé non vuol dire quello che dovrebbe aver fatto recuperare tenere il dato sul PIL sul PIL attuale che abbiamo commentato in apertura con De Romanis torniamo a Pammolli che credo che ora non abbia il microfono funzionante e arriviamo a te ecco ma io credo innanzitutto che all'economia ci sia per fortuna una persona che comunque non difetta di prudenza mi aspetto non dico un pilota Giorgetti non dico un pilota automatico della ragioneria però mi aspetto una dinamica che per certi versi ricorderà con una conduzione politica diversa ma la dinamica che abbiamo vissuto quando Tria è stato ministro cioè c'è una politica declamata e poi c'è una politica di bilancio che in qualche modo verrà assicurata a rimanere dentro binari che questo non non va a dire che alcuni dei punti di di groteschi che venivano richiamati non possano realizzarsi però ecco su anche perché anche perché noi abbiamo un anno particolare il 2023 che sarà un anno di scadenza di una quota consistente dello stock di debito sovrano e in una situazione di politica monetaria di andamento dei tassi di interesse quale quella che abbiamo sui mercati internazionali non sarebbe difficile determinare situazioni semidisastrose per il sistema bancario nazionale che di quei titoli obbligazionari o comunque che di quei tassi di interesse risentirebbe immediatamente rispetto al valore dell'attivo quindi questa è un po' una considerazione che mi dice che i piloti automatici e gli stabilizzatori istituzionali al MES funzionano e che questo può rappresentare un elemento di salvaguardia dopodiché si tratterà di capire come questa maggioranza cercherà comunque di avere una narrativa che sia politicamente vendibile allora da un lato lo abbiamo visto con i vari riferimenti alla sovranità nazionale in vari ambiti da quello agricolo a quello imprenditoriale a quello che poi dopo le modalità potranno essere quelle che richiamava Mario prima o altre ma ci sarà sicuramente questa intonazione che accompagnerà anche la ridiscussione delle clausole sul patto di stabilità e di crescita a livello europeo questo è un altro grande dossier che nel 2023 avremo quindi questo dossier consentirà probabilmente di mostrare che il paese ha ripreso una sua vocalità e una sua virilità a livello europeo e mi aspetto che questo sia un altro ambito nel quale si possa sviluppare una narrazione di sostegno politico poi ci sono alcuni dossier che non sono strettamente rilevati diciamo collegati direttamente alla politica economica ma sui quali si capirà la vera natura di questo esecutivo faccio riferimento alla giustizia assegnatamente cosa accadrà su quel tavolo al di là dell'ergastolo stativo diciamo cosa accadrà rispetto alla penalizzazione del diritto amministrativo alla quale abbiamo assistito nel nostro paese con particolare virulenza sin dal 2012 questa è una domanda che ho potrebbe essere questo un ambito all'interno del quale qualche iniziativa positiva la potremmo la potremmo osservare l'altro tema che come sai mi sta a cuore come sanno anche gli ascoltatori è quello del federalismo dal punto di vista delle modalità di determinazione della spesa standard dei fabbisogni standard eccetera è un tema che potrebbe in qualche modo ritrovare uno spazio un pochino più ampio tra il ministero degli affari regionali e il ministero dell'economia e delle finanze certo ecco mi fermerei a queste considerazioni però condivido che fino adesso diciamo il dibattito e le proposte sono state molto minute cacofoniche e quindi diciamo non è che siamo partiti benissimo allora abbiamo cinque minuti per andare a chiudere quindi sostanzialmente un minuto un minuto e mezzo per uno se riuscite in un mini compendio una battuta finale Veronica De Romanis 30 secondi un commento quello che diceva Fabio Pammolli è vero che al MEF c'è una struttura che funziona bene però ricordiamoci che Tria che era un ministro tecnico prima di arrivare a una politica fiscale diciamo così consapevole e abbiamo chiuso l'anno in cui c'era Tria con il disavanzo più basso da moltissimo tempo però ci ha fatto il famoso balletto del 24 e il 204 insomma lo spread ha aumentato non è stato indolore quindi ci sono gli anticorpi ma insomma scattano un po' lentamente quando si fanno delle decisioni si prendono decisioni sbagliate questa volta però c'è un passo in avanti perché il ministro Giorgetti è un politico e quindi non solo ha il potere di decidere ma anche la responsabilità di quello che fa però mi sembra che dalle dichiarazioni che ha fatto è piuttosto prudente regole di bilancio 15 secondi ne parleremo magari in un'altra puntata io penso che non ci sia tutta questa necessità di cambiarle soprattutto la direzione che propone che almeno sembra di proporre la Commissione Europea ovvero percorsi specifici per ogni paese sia un grande errore perché vuol dire dare alla Commissione dei poteri che oggi non ha e che secondo me non dovrebbe avere in una situazione in cui non siamo in un'unione fiscale una cosa emette dei limiti quantitativi una cosa è entrare nella composizione delle tue spese delle tue entrate ecco sarebbe interessante sapere il governo Meloni e il nostro presidente del Consiglio cosa pensa a riguardo conclusione quello che secondo me potrebbe fare subito dopo domani il governo Meloni e la presidente proprio per rafforzare la sua reputazione a Bruxelles è la ratifica del MES meccanismo europeo di stabilità sta lì in attesa non l'ha fatta la Germania ma per motivi solici della Corte Costituzionale quindi lo farà noi l'abbiamo tenuto in spallo colpevolmente anche il governo Draghi avrebbe potuto fare molto di più tanto bisogna farlo si tratta di dare all'Unione Europea uno strumento in più se la Premier Meloni lo facesse subito come primo atto gli consentirebbe di avere un'iniezione di credibilità ai tavoli europei con un minimo sforzo e grazie anche per la brevità oltre che per i contenuti ovviamente Oscar Giardino anche a te ti chiedo un minuto un minuto e mezzo al massimo microfono mi ero muteggiato scusa tre pillole la prima riguarda il MEF e la capacità di tenuta dal MEF storicamente è così oggi molto meno io non sono ottimista come Fabio per questa ragione questo governo non è il governo che voleva Giorgio Meloni mi sento di dirvelo avendo parlato innumerevoli volte lei voleva un tecnico lì e molti più tecnici fuori dai partiti anche se di area questa cosa non gli è stata resa possibile perché Salvini e Berlusconi hanno detto neanche per idea deve essere il governo politico e quindi basta con questa storia di tecnici perché perché Giorgetti Fabio storicamente è andata così nella sua vita un no vero a Salvini non è mai stato capace di pronunciarlo e Salvini prima che il governo nascesse ha già fatto capire come lo incardinerà farà riunioni di tutti i responsabili economici i borghi i bagnai i rixi quelli che volete voi con Giorgetti rese pubbliche in cui Giorgetti dovrà dirgli dovrà sentire che cosa la Lega si aspetta che faccia e questa sarà una spada di Damocole permanente sul MEF e che Giorgetti diventi coraggioso ma vediamo ma io non ci credo molto perché lui ha finito l'esperienza precedente ed era rassegnato a tornare sul suo lago nel Baresotto per essere chiari per il trattamento subito però vediamo secondo punto quello che questo mi desume dal giro che ha fatto tra i membri della Commissione Europea pochi giorni fa il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi che ha parlato io la penso come Veronica De Romanis perché attualmente in realtà la divisione tra francesi e tedeschi su cosa la Commissione deve proporre e manca pochissimo è molto forte proprio perché lo stato attuale della definizione degli interventi della Commissione non solo pretende e prevede un fortissimo potere discrezionale ma prevede l'individuazione di parametri la cui identificazione va diversificata da paese a paese cioè più vincoli per essere chiari e più discrezionali perché più vincoli è un bene per chi la pensa come me più discrezionali no perché aumenta la possibilità di dire manco per idea e questa è la condizione in cui ci troviamo speriamo che non sia così ma attualmente è così perché non vi devo dire qui su quanti dossier fondamentali dell'Europa attualmente francesi e tedeschi stanno prendendo una strada divergente perché c'è una divergente lettura di cosa deve essere l'Europa i tedeschi dicono noi la globalizzazione con la Cina eccetera ce la difendiamo per i fatti nostri mentre Macron ha un'idea completamente diversa e questa questione impatta anche le nuove regole per il patto di stabilità e non solo quelle ma anche gli aiuti di Stato terza osservazione ci sono poi delle emergenze che insomma nei giornali non vedo ma che sono emergenze vere su cui forse il governo si potrebbe svegliare perché oltretutto non impattano neanche divisioni interne faccio due soli esempi e ho finito il governo Draghi tra le tante cose che purtroppo mi aspettavo che facessi ma non ha fatto è sbloccare la vicenda ILVA la vicenda ILVA non è dare miliardi in più è dire nel piano industriale caro Bernabè tu inizi subito il revamping di AFO 5 senza AFO 5 con i due che attualmente sono di alto forno si esce comunque dal ciclo a caldo la vittoria successiva di Emiliano che a quel punto potrà dire ho vinto comunque tanto voleva farlo prima industrialmente è così per cui segue la vicenda ISAB PRIOLO anche lì da aprile è chiarissimo che qual è la fine che rischiamo tra pochi giorni della capacità di raffinazione che attualmente impegnata è il 12% della raffinazione italiana ma che come capacità impegnabile è fino al 25% da aprile perché i russi sono gli unici che hanno dato lettere di credito per gli acquisti di petrolio in quel caso solo russo lo hanno fatto lavorare solo col petrolio russo il governo Draghi sapeva perché con i vettici ISAB ci ho pure parlato che era necessaria l'emissione di garanzie a lettere di credito per comprare perché sono richieste dai venditori di oil di altri paesi perché di ISAB non si fidano tanto più con i russi e lavorarle come storicamente l'ISAB apriolo ha sempre fatto perché lavorava fino al 70% di petrolio non russo non lo ha fatto nessuno faccio queste due vicende perché industrialmente sono molto significative si possono sbloccare spero che qualcuno ci arrivi a capire che queste sono misure più importanti delle loro bandierine però non ho nessuna speranza grazie Giannino Mario Seminerio io sono d'accordo con tutti gli interventi che mi hanno preceduto in particolare sì vedremo alla prova Giorgetti perché Giorgetti potrebbe essere lì per essere come dire l'elemento che farà collassare il futuro politico di Salvini oppure potrebbe alla fine dire obbedisco il 4,5% di deficit PIL che probabilmente uscirà dalla Nadef programmatica dovrebbe essere quello che mantiene una traiettoria in discesa del rapporto debito PIL ma anche qui come ha ben detto oggi il governatore Ignazio Visco alla giornata del risparmio l'incertezza è stratosferica per cui i numeri sono veramente scritti sull'acqua quest'anno più che negli anni passati qui c'è un esito duale una biforcazione per farla molto breve o faranno prova di realismo quindi lavorando su numeri complessivamente piccoli per quanto riguarda l'economia l'impatto economico e magari compensando con qualche situazione di valore simbolico ideologico quelle che sono caratteristiche della rivendicazione di destra e allora potrebbero come dire stabilizzarsi eccetera anche se tutto è subiudice a come andranno i sondaggi rispetto ai due partner minori quelli bolliti diversamente se prevarrà adesso voglio vedere quanto dura Meloni con questo approccio siamo qui per rispettare le norme europee e contribuire a cambiarle ecco quanta parte di rispettare e quanta parte di cambiare e all'interno di questo equilibrio instabile sul quale peserà molto l'opinione gli umori dell'elettorato e i sondaggi soprattutto durante l'elaborazione della legge di bilancio vedremo se costoro prenderanno una strada almeno per il 23 di assestamento oppure se andranno direttamente sugli scogli portandosi dietro ovviamente il paese chiarissimo chiarissimo grazie Mario Seminario Pamoglio l'ultimissima battuta veramente 30 secondi perché abbiamo sforato come al solito sì sì non aggiungo nulla se non che sono un pochino più ottimista perché una funzione di stabilizzazione istituzionale legata anche alle sorti del sistema finanziario e bancario italiano in una stagione di grandissima volatilità dei mercati credo che rappresentino un attrattore più potente di altri Oscar per cui su questo questa volta siamo molto spesso d'accordo questa volta invece sono mi auguro che tu abbia ragione faremo faremo un secondo round ho capito allora grazie davvero Veronica De Romanis Mario Seminerio grazie Oscar Giannino e Fabio Pammoli grazie per essere stati con noi e chi ci ha seguito qui sul bandolo su Radio Radicale alla prossima ciao a tutti